da quella volta dell'arresto sono rimasto con un basso profilo per un bel po di tempo passarono ben tre mesi da quel giorno e nel frattempo un po di cose sono cambiate ad esempio non sono più con quel gruppo di ragazzi i ballas ho deciso di allontanarmi anche da loro il periodo sotto copertura poteva finire lì mi misi a lavorare come elettricista per un po in modo da stare tranquillo poter vivere e non avere problemi ma nel frattempo ho ritrovato un po di amici e tra questi c'è anche Stefano che è venuto anche lui qui in città e insieme a lui ed altri ragazzi abbiamo cominciato insomma a ricreare un gruppetto servono le armi compa adesso sono presto 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 ma per portarmi o te lo fai oppure chiediamo a qualcuno se ci può comprare l'arma però mi vorresti che posso affidare i soldi in mano a uno buonasera sono un attimo da una paziente a dargli gli antibiotici per le analisi perché che succede che dobbiamo fare ma ha già preso coscienza quanta gente ok perfetto allora che devi comprare che devi comprare qualcosa da mangiare compro qualcosa da mangiare ecco che lo compro così che non dobbiamo andare su ogni volta che talantella talantella fraga talantella oh cosa no buonasera bellissima buonasera che cosa vi porto vorrei qualcosa da mangiare abbiamo un insalato misto oppure un amorino che è un dolcetto anche allora quattro entrate miste e due la porto via ok e da bere oh cazzo sparano piangate piangate se state qua dentro non succede sa buono ti preoccupare tranquilli abbiamo la sicurezza e da bere abbiamo un mojito oppure un drink an alcolico alla fragola allora quattro drink an alcolico alla fragola quindi quattro drink an alcoli e quattro insalate giusto sì sì ok te li preparo subito sperando che non ci ammazzino se sì la scarsa il problema nostro è se ci rimane un colotto di teste gesso il cavo danno no vege botto eh ma sta bello sta giacca deo oh ma chi si sparra proprio eh? non raffogli almeno chi si deve l'arma ha chiuso ha fatto bene ha fatto bene meglio 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 sì 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 infatti sennò qua ci rimaniamo ci rimaniamo e papi vuoi unirti? di mangiare un po' di piombo? ragazzo è sempre pronto ma si caldi ma si caldi un culo signorina i fuochi sono per lei questo ragazzo ha voluto farle una sorpresa stasera si immagini immagini prendiamola a ridere ma già guardate lasciamo perdere che è meglio addirittura questo trick dracco signorina si attenta eh non si buca signorina si va si lancia ragazzi è la polizia non vorrei sapere cazzo non vorrei prendermi una polotta allora ti passo tutto aspetta ma qualche volta qua qualche sfilata la fate? che vedo un bel palco là assolutamente sì faccio molto rispettato bene 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 sono contento magari qualche volta passiamo no? che dici? no con tutto questo entusiasmo proprio carità eh probabilmente eh no no solo che non so che non so che scherzo non ti preoccupo senti io mi devo andare appena riporto aspetta ti devo fare la fattura vieni l'antimo sì ma sei spano vabbè andiamo comunque sono 3.800 2.800 andiamo? ma è finita la festa qua fuori aspetta 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 ma è finita la festa non fu portata perché fa? no così diciamo una cosa in due eh tu fai una cosa che c'è un'altra guardi che fa se mi arrestano ma tu la macchina ce l'hai qua il garage? no io secondo me ce l'ho il garage quello sopra perché? ce l'ho sto garage qua voglio andate un attimo a vedere andiamo a vedere un attimo andiamo a vedere un attimo ce l'ho la sopra cosa? anzi no no secondo me sta là sopra la macchina non vuole fare mi ricordo dove l'ho posato aspetta a fare il furto aspetta voglio una pistola a fare il furto fedele la prossima volta che mi ferma la polizia gli sparo in bocca questo 50k è non rindracciabile diciamo contraffato e se lo puoi fare il furto e come avrete capito siamo pronti ad organizzarci per altre rapine altri soldi altri guadagni per noi per ricominciare a crescere e diventare un grande gruppo e posso assicurarvi che questo accadrà molto molto presto ci ricamo in ospedale perché dovevo fare il porto d'armi purtroppo era necessario averlo per avere una pistola e così andai in ospedale per parlare con i dottori dottore dottore buonasera salve scusi buonasera io dovrei fare il porto d'armi è qui la visita no? si si se potrebbe aspettare che abbiamo delle emergenze un pochino per carità certo certo buonasera agente agente scusi scusatevi dottoressa prego e lei è il signor? Anthony De Vito lei ha fatto per caso la prenotazione sull'applicativo? no in realtà non sapevo di questa cosa me l'ha detto di passare qui me la può fare per piacere a bel volo? ehm si c'è la sezione apposta delle prenotazioni delle visite ok stavo parlando un attimo ad Eric però arriva? sempre da lì arriva l'ultima chiamata comunque Eric sono andata a dare una controllata al paziente che mi dicevi per ora non mi vuole parlare mi hanno cacciato dalla stanza quindi adesso poi vedo scusi ma abbiamo un'emergenza no ma si figuri ci mancherebbe dottoressa ehm legga quel cartellone in fondo fino alla quarta riga quello in fondo fino alla quarta riga? E F P sì T O Z L F D e poi e basta si avvicini un po' e venga qua ok continui a leggere P E C F D E D F C Z F ok perfetto lei fa uso che uso? dove? si copriti dietro l'ambulanza se riesci mio dio non che casino che succede dottore? ahhh dicevamo fa uso di sostanze stupefacenti? ma no assolutamente ma no assolutamente mancherebbe niente 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 alcolici? ehm no ogni tanto qualche cocktail ma niente di che ok lei fuma? no ok si ha letto ogni tanto fa qualche attività sportiva? ehhh scappo dalla polizia scherzo scherzo no 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 assolutamente ok non fa attività sportiva? non tanta un po' di stretching ogni tanto per un problema ma corro eh corro veloce eh eh si però per maneggiare una pistola sposto per sparare per tenere il colpo si fidi dottoressa si fidi che ce la faccio a tenere eh si fidi si fidi si fidi mh vabbè ehm se un suo amico fosse preso di mira da una persona con un'arma tentato con un'arma e lei ha un'arma con sé cosa farebbe? eh cercare di aspettare la polizia dottoressa io non voglio sparare a nessuno però se proprio sono costretto proprio al limite eh per difesa ok eh che interviene la polizia preferisco sinceramente mh invece eh soffre di attacchi d'ansia di panico di rabbia no 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 almeno finora ok meno male ha qualche malattia mh cuore o genetica per carità dottoressa no 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 ok perfetto allora conclude subito la cosa ok quindi dopo di qui vado all'armeria no? esatto perfetto devo fare firmare dottore da qualche parte sì un attimo ma posso dottore pagata? sì sì può andare può andare ma ringrazio buon lavoro arrivederci dottore dottore eh sì dottore buonasera buonasera agente una domanda siccome io devo fare il porto d'armi no? no per favore mi scusi no no non si sente bene ah non sta in servizio chiedo scusa dottore agente scusi nel caso vengo in centrale certo 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 nel frattempo che ero lì a fare la visita e tutta la trafila del porto d'armi con la dottoressa Stefano organizzava con gli altri due nuovi arrivati l'incontro e li abbiamo fatto venire lì all'ospedale così da poter fare due chiacchiere e poi in un giro insieme e loro sono Federico due fratelli ben naturi all'Italia per fare il porto d'armi qua che conoscevamo già prima e anche loro hanno deciso di venire qui a Los Santos e così li abbiamo aggregati vediamo un po' anche Federico dovete fare qualcosa qua il porto d'armi ehi si questo fratello non parla più mi senti? ce la fai? mi si sente Federico ehi ehi dai vai valla a fa' dai entra no no ma tutte e due andate 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 che ora c'è stata la dottoressa sennò queste non fanno più qua niente vai 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 io intanto vado un attimo alla come si chiama alla all'armeria ok ok ma che gli dobbiamo dire alla dottoressa? eh? che gli dobbiamo dire alla dottoressa? alla dottoressa che gli dobbiamo dire di niente che gli dobbiamo dire di niente che gli dobbiamo fare il porto d'armi? che gli vedi? ma soprattutto quanto costa vuoi? 7 mila dollari ce l'avete i soldi? ah ok si 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 17 mila ne 7 mila ce l'avete? ah si 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 aspetta in macchina steve aspetta in macchina Vai, chiusa Dottore Dottoressa Buonasera, scusi se la disturbo I miei amici qui, io già l'ho fatto Dovrebbero fare il porto d'armi C'è già un ragazzo dentro che sta facendo il porto d'armi Stasera ci sono un sacco di emergenze E devo scappare Ma che succede? Dottore guardi un po' là Ma che succede là fuori? Ma che sta succedendo? È un casino È sprenuto, è sprenuto Oddio È sprenuto C'è un mio collega dentro C'è un mio collega dentro Appena esce che ha finito col porto d'armi Chiedo subito a lui che ho un'emergenza Devo scappare Oh mamma mi vado Mamma mi vado Venite un attimo raga Venite un attimo Allora entrate nella radio 145.3 Sì Ce l'avete la radio no? No Eh no Non ce l'avete la radio? No Ok vabbè Andiamo a comprare pure quella Lo tempo di E E la che andiamo a comprare Aspettiamo Stefano che scende Andiamo sopra Anzi venite con me Garst tollio Io sono alta Come te sei Mi chiede Sono alta Guardate Comeропartili Gli Siamo Per Unde C'è Lei Si Qui Spit Siamo Ch Beija Cap Can mi raccomando se avete problemi premete muscolo caps che muscolo caps e vi fa cambiare tonalità di voce più forte meno forte eccetera provate in alto a sinistra leggete sussurra cosa c'è mi raccomando cercate sempre di sussurra quando parlate di cose strane sentire solo voi vicino non troppo lontano che volevo dire ma andiamo a fare un attimo finiamo sto porto d'armi andiamo a prendere le armi e vediamo un po che fare ci dobbiamo mettere subito in moto raga è importante ok comunque mi fa piacere che siete qua con me ma sono contento cominciamo a cominciare vediamo se ci sta qualche risata qualche battuta e dopo esserci ritrovati con federico e frank finimmo tutti di fare il porto d'armi lì in ospedale e poi mancavano altri due step uno era l'armeria dove c'era il test balistico e un altro era in stazione di polizia molto importante sarà l'armeria perché lì succederà qualcosa che darà la svolta a tutto 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 e alla storia di anthony devito ci vediamo al prossimo episodio mi raccomando sempre allerta